bello a tutti ragazzi benvenuti con i nuovi di partnite sto scioccando di atterrare primo spawn ma penso a questo video non l'ho eliminato perchè morirò malissimo 7 6 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 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 10 15 10 11 11 12 12 12 12 15 14 14 15 15 15 fuggitivo 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 scappa e scappa e scappa e scappa e scappa e stoppa ah 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 scappa fuggitivo she klappa e scappa sempre scappa e scappa sempre esca pesca e scappa scappa e sempre scappa fuggiti voto tutto tutto messo male con la vita 2 1 what c'è veramente l'ho fatto la teniamo a chiede attendo che mi uccidi sono ancora attendendo giusto vedere non lo sono fatto no 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 ricarica che ho visto un tagliata verde e quindi niente che lo slurpino beve lo slurpone la voglio capire adesso una cosa da ecco la quale mi taglietta al posto così con cara io penso di essere morto verso il concetto mentre spera di noterò che dovevo dire che c'è una a questo punto ma è sempre un po solo io così non ho fatto quello questo è una finitura o minuto le bende che mi possa andare alla volta certo cercare le regolette di scappare non ho dato vado a dare minuto le regno dovrò andare allo carte corre basta se ci riesco cosa è bene che no addio partita c'è veramente arrivare fino a qualsiasi mi stai dicendo alla fine conclusione delato 6 morto posso però gesto a vedere se cuocerà qualcosa è nato 6 morto vabbè gg non sono a morire male non molto male facciamo un'altra partita e ci andiamo a prendere e poi muoviamo ciao 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 ma sono brutto no e ragazzi lo sapete scrivetemi qui sotto nei commenti se fai una vittoria da mobile te la dà sì o no io ti ho avviato avviene avviati avete almeno non si è vero e sai di una santa che il nome di napoli mi piace troppo questa musica ok mi piace sono due sono tre facciamo sto baggio tutti quanti muovano la fine non si è scoperto che non serve a niente così per andare più veloce non perdere quota non è stato non serve a niente abbiamo sempre il nostro palazzo però c'è tutto il rispetto il nostro palazzo fortunato però cavolo è un tattino blu se non lo puoi rifiutare così proprio che poi vengono solo legno un po' se si veramente fa quello veramente fa la casa mia non ... 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 Ok, ok, ok 5 di vitae me lo botto Cosa ho combinato, anzi non è meglio Cosa ho appena combinato Proprio deve essere molto più fiscale Ok, arriviamo giusto a 75 Io spero di non mai pensi di essere morto Mi chiedeva con me di andare A destra del calciatore E' ok La prima fatta anche la challenge Del cacciatore di mosli Questa è una seconda Questa è una cosa Vedete che ho anche trasformato infatti Cacciatore di minore Cacciatore di minore Cacciatore di minore Maggiore Ho trovato cosa è bene quella Quenta Questa è un po' Che detto? Veramente? che ha detto gg vaga bellissima notizia domani a scuola rimane un attimo di gloria di ecoria di tutto quello che è possibile immaginabile e c'è il gg che dice che non provano domani è stato troppo bello perché sempre uno domani non si va a scuola no che ci sono pioggia esagerata e poi dopo queste pioggia esagerate giovedì e venerdì non si andrà a scuola perché c'è la festa e quindi c'è un giorno solo c'è oggi è mercoledì se non fanno anche un po' il nascolo di maio player player ho sentito sto facendo un video mi sto sclerare al video se tu senti un player si è vero il player ci sta partirei io ho visto esce esce anzi se non mi muoio usci dove uscire io con la voce no perché la stacca tutto è vero nemmeno siamo più in tutta la mano anche caro se mi fai prendere pure lo scudino guarda c'è da loro no 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 Oh! 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 Petterscore! Oqui! da 77 78 è però onestamente ci fa capire le scudine tutto però a morire sono morto prima no mamma mia l'ora è nulla fai un attimo l'ora mamma mia la vera come cavolo scampata c'è già un like solo per questo l'ex solo per questo io vi non lo vedo non provo non me ne vedo le persone alcune nascono con dei problemi dei problemi del cervellino e purtroppo le persone e però bello c'è un cammino che mi vuoi busciare però dillo che io me ne vedevo andare è fatto pure la rima questa persona di buscio senza dirte lo ha visto dici e sono io sto venendo a prenderti se tu cavolo non dici niente come puoi pretendere che una persona non ti banna dal gioco almeno ci prova a bannarti dal gioco che vedete poi si risolvono i problemi alla vita così ammazzando gli alberi scappando le persone uccidendo persone che senza un miracolo poi dice che non resterà ok nella mia religione non so quale voi frequentate esiste un dio secondo voi secondo me si esiste il dio di fortnite secondo me si oppure ci sono tanti di almeno uno di quelli mi ha aiutato perché io sono salvo per il miracolo ma non per il miracolo un semplice miracolo un grande miracolo 3 kg 2 kg vabbè mi ricordo 1 ma non mi ricordo attimo ricordo forse non ho no a una e basta e due e questo c'è anche dei altri problemi leggono i messaggi dagli altri questo è un altro problema quelle persone non sanno solo il cellulare quindi impazzisco quando il cellulare si o si accende si spegne e dice che magia è ecco infatti e io ce l'ho davanti a una persona un like per le persone disperate per favore ok altre persone invece cercherò di parlare di ciò piatto ma si sente nel video e volevi prendermi cretino uno due fiera a quel paese 99 fatti acce a me è va bene è andato è andato è andato è andato è andato è andato Eh vabbè, ma è meglio che mi sono suicidato, ecco non gli ho dato l'uccisione, guarda sono più fiero come le fiere, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, like, ciao